ma che ok dai ho capito non riesco ad avere scampo è quel giorno della settimana e allora ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video oggi parleremo di allenamento ma non come pensate voi siete pronti? forza proprio l'altra sera ero al telefono con un amico e stavo chiacchierando di un po' di cose tra cui alcune abilità come ad esempio l'abilità di dialogare e di esporre dei concetti come sto facendo ad esempio io adesso davanti alla videocamera ma anche la capacità di intrattenere il pubblico e quindi di intonare in maniera diversa la propria voce ora ci sono diverse cose che io credo che una persona possa conoscere e qui vi parlo dell'allenamento che però per quanto noi possiamo conoscerne la teoria poi ci risulta difficile metterla in pratica vi faccio un esempio tutti quanti sappiamo in teoria come si esegue un push up quindi ad esempio mani diciamo vicino le spalle gomiti non attaccati al corpo ma leggermente esterni e poi andiamo a stendere le braccia per eseguire un push up il problema dove sta? il problema sta che se noi non abbiamo mai fatto un push up nella nostra vita possiamo conoscere benissimo la teoria ma ci manca l'allenamento per eseguirlo ci manca la forza ci manca la correzione del movimento e questo non vale solo per l'allenamento fisico ma vale per qualsiasi abilità che noi vogliamo sviluppare molto spesso ci può essere la presunzione di saper fare qualcosa ma senza aver fatto pratica 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 poi alla fine tutta quella teoria è difficile metterla nella realtà e ottenere risultati vi faccio un esempio prendiamo un video di Dario Vignali Dario Vignali si presenta all'inizio del video cambia diverse volte intonazione stile di voce e inquadrature grazie al suo cameraman Paolo Bacchi ma il punto è questo in ogni video gli dice una cosa molto semplice che un video per essere interessante dovrebbe avere le tre i cioè dovrebbe essere ispirazionale dovrebbe dare delle informazioni e dovrebbe intrattenere è un concetto potentissimo è incredibilmente semplice nella sua diciamo semplicità è immediato ma per quanto può arrivare a chiunque ok compreso me perché anch'io ho questo tipo di difficoltà è incredibilmente difficile inserire in un video tutte queste chicche queste particolarità ad esempio mentre io faccio un video posso tirare fuori una battuta per intrattenervi posso usare la gestualità posso cambiare il tono di voce in modo da mantenere un po' più viva l'attenzione però poi potrei perdermi la parte di informazione cioè potrebbe essere un video in cui non è molto informativo oppure potrei perdermi la parte ispirazionale come vedete è difficile stare sempre in giro mostrarvi i posti o farvi conoscere cose in particolare e lo studio ormai bene o male lo conoscete però cerco almeno nel mio piccolo di metterci il mio in senso la mia personalità è un po' di intrattenimento questo è un esempio molto molto semplice di come una cosa che si conosce a meno dito in teoria poi è difficile metterla in pratica vi faccio un altro esempio noi sappiamo esattamente come si esegue ad esempio un rigore un pallone, un calcio però poi trovarsi nella situazione per il portiere davanti, il muro e dover tirare un rigore se non l'abbiamo mai fatto probabilmente ci verrà un grandissimo piede a banana e la palla schizza fuori dal campo questo perché? perché ci manca l'allenamento se non abbiamo mai tirato un rigore nella nostra vita è difficile che lo improvvisiamo all'ultimo minuto e mi viene in mente una frase che ha detto un mio vecchio insegnante di danza eravamo fuori un teatro di campo basso dovevamo fare uno spettacolo se non siete a conoscenza di questa cosa io ho anche abilità come ballerino e lui mi fa questo discorso se tu credi che adesso riuscirei a fare qualcosa che nelle prove non ti è mai riuscito scordatelo, non ci pensare sul palcoscenico hai una sola opportunità di dare spettacolo e devi saper fare il massimo di quello che sai fare non devi improvvisare qualcosa che non hai mai fatto pensa a tutte quelle che sono le tue più grandi abilità pensa a quelle che sono le tue chicche le tue armi speciali un po' come in Dragon Ball c'è la sfera energetica, la kamehameha che è il colpo finale che Goku usa sempre tu devi pensare a quello che sai fare meglio vai in scena, fai quello, prendi gli applausi e poi porti a casa il risultato quel discorso fatto per quanto riguarda uno spettacolo di danza in realtà riguarda ogni singola parte della nostra vita se noi andiamo a un colloquio di lavoro è ovvio che dobbiamo portare la parte migliore quella che sappiamo fare meglio possiamo certo improvvisare e andare lì che non abbiamo mai provato un discorso o provato delle domande insomma collaudato un po' con le nostre capacità gli esami per l'università noi possiamo andare a un esame dopo aver studiato l'intero libro ma se non ci siamo mai esercitati nel cosa ci potrebbe chiedere un professore nel come ce lo potrebbe chiedere e nel tipo di pretese che questo professore può avere perché ogni professore vi posso assicurare che può avere delle pretese diverse vedrete che all'esame avremo un voto o mediocre o addirittura insufficiente perché non abbiamo testato abbastanza le nostre capacità sempre nel mondo della danza c'era un altro amico o forse un personaggio famoso che diceva sempre è nella sala, nell'allenamento, nelle prove che si vincono le coppe in gara le si va solo a ritirare e credo fosse danza perché noi lo dicevamo la danza però è un discorso che vale anche che ne so, per il calcio per qualsiasi altro sport la palla a volo e quando vi allenate che portate a casa il risultato non mentre siete in campo a giocare quando siete in campo a giocare voi fate quello che sapete fare meglio punto that's it copiando Montemagno oggi li sto citando tutti oggi è la giornata in cui citano tutti gli youtuber italiani e questo è il segreto che vi voglio rivelarvi l'allenamento l'allenamento è la parte fondamentale della riuscita di un nostro risultato se noi non passiamo il tempo ad allenarci a fare delle prove a testare fallire soprattutto fallire il fallimento è una parte importantissima nel processo di crescita perché se noi non testiamo un'abilità sbagliando e imparando alla fine non riusciremo a ottenere i nostri risultati ed è solo allenandosi 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 che alla fine siamo sicuri di quello che riusciamo a fare altra chicca oggi sto citando persone a casa e ovunque e frasi motivazionali come se non ci fosse un domani ed è questa cosa che mi è rimasta particolarmente diciamo impressa si può imparare col metodo dello sciocco o col metodo del saggio il saggio impara delle esperienze altrui segue corsi e si forma lo sciocco come terrori in continuazione e io di solito seguo il metodo dello sciocco sono uno che commette tanti errori per poter imparare anche solo a fare una cosa buona se siete migliori di me e un poco più capaci di me io vi auguro invece di seguire il metodo del saggio e di avere qualcuno che vi spieghi le cose in modo pratico e che vi rende in grado di ottenere risultati senza diciamo incorrere in quella parte di fallimento e di crescita nel vostro percorso se poi quel tizio che fallisce e vi spiega come fare le cose in modo giusto dovessi essere io mi accollerò il titolo di vecchio saggio comunque scherzi a parte ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto spero che a un minimo vi siano divertiti che vi sia rimasto impresso almeno qualcosina di quello che ho detto che iniziate subito a mettere in pratica quello che vi ho consigliato in questo video allenandovi in quello che preferite e se scendete in campo date il vostro meglio con quello che sapete assolutamente fare bene detto questo ragazzi se questo video vi è piaciuto mettete un like iscrivetevi al canale condividetevi con i nostri amici per darvi una mano per crescere il canale e parentesi prima del saldo finale se vedete giù in descrizione dovrei aver messo un canale di offerte telegram così mi sto adeguando un poco a quello che è lo standard di youtube a voi non costa nulla però se trovate qualcosa in offerta e cliccate su link potete dare una mano al canale a crescere facendo diciamo acquisti di materiale tecnologico o altro insomma date una mano a sostenerlo detto questo con me si va ci vedremo nel prossimo video see you next ciao ciao ciao